Benvenuta al Checco Zalone Show! Qual è il modello di donna di Checco Zalone? Come deve essere la donna per Checco Zalone? Allora, per me mi piace la donna, io dico sempre deve entrare in una coppa di champagne il cappezzo, per dire... Una metafora per dire... Con questo chiaramente non voglio offendere le donne che hanno dalla terza misura in sotto che io affettuosamente chiamo malate ma voglio dire... Non penso perché guardi in me! Ma è solo un po' di ginnastica per rafforzare i principi di con i vigari di utori di interno, coscia e glutini andiamo a fare la giobbica tagliamo il tempo di musica vedrai che poi migliorerai